Ben trovati telespettatori del Sassone allo Stagno, questa settimana siamo a Gazzaniga per parlare del tema sempre caldo dell'immigrazione. Nei giorni scorsi la decisione di negare l'approdo ad una nave colma di immigrati in uno dei nostri porti. Cosa ne pensate? Decisione giusta o sbagliata? Sentiamo la gente qui a Gazzaniga. Per me è giusto nel senso, dovremmo aiutarli a casa loro oppure far venire qua solo quelli che hanno voglia di lavorare e far riconfortarsi bene che rispettano le nostre leggi. Come facciamoli che diamo? Tu vieni per delinquere o vieni per lavorare? No, allora è meglio aiutarli a casa loro, anche perché abbiamo qua troppi e l'Europa dov'è? L'Italia già siamo noi in difficoltà perché oggi purtroppo il lavoro è quello che è. Quindi è giusto in pratica chiudere? Sì, per me sì, senza discriminare, senza essere razzista perché in tutte le razze ci sono le persone buone e quelle cattive. E se anche quelle di Malta se li prendono? Eh, se lasmei! Cosa ne pensa? Forse bisogna cominciare a fare qualcosa, secondo me dopo si vedrà. In che senso cominciare a fare qualcosa? Cominciare a chiudere? Per forza, secondo lei? Non posso, io non posso solo domandare. No, bisogna cominciare, tranquillo. Quindi il segnale forte andava dato? Sì, sicuramente sì. Ma questo come a tutti gli altri ormai? Poi si vedrà, intanto bisogna cominciare, come ripeto. Quindi approva la decisione saldita? Assolutamente sì. Ha sentito la notizia dei porti chiusi? Non so. Cosa ne pensa? Che fanno schifo. Non andava affatto, bisogna cogliere. Per niente. Quello lì va col Vangelo in mano ma lui il Vangelo non l'ha mai letto. Cosa ne pensa? Decisione giusta o sbagliata? Non lo so, perché sono tra uno e l'altro. Io non sono razzista, però ne abbiamo troppi. E questo è purtroppo. Il chiudere sarebbe proprio per sistemare un po' la situazione che c'è. Però poi dispiace perché dall'altra parte non sono razzista. Io amo sia uno che l'altro. Quindi niente. Il popolo italiano, secondo lei, cosa ne pensa? È più dalla parte di Salvini che... Per me è metà e metà. Per me è metà e metà. Non è né da una parte né dall'altra. Secondo me c'è quello che è a favore, quello no. Secondo me siamo un 50 e 50. Speriamo sia così. Cosa ne pensa? Beh, sarebbe ora nel senso che sono stati fatti troppi errori negli anni passati. E quindi è una cosa giusta, anche se drastica, anche se a tanti ovviamente potranno andare bene, ma da qualche parte bisogna cominciare. È un peccato per queste persone che si trovano in mezzo al mare, ma qualcuno in qualche modo doveva cominciare a fare una cosa che è giusta e che va fatta. Non solo questo. Questo è l'inizio per poi intervenire anche sui centri di smistamento, tutto quello che ne consegue, insomma l'ospitalità, tutto questo business che c'è intorno a questa situazione dei migranti. Quindi, insomma, è giusto così, bisogna cominciare da qualche parte. Secondo me anche tutti gli italiani come si dividono su questo argomento? Beh, in questo momento sicuramente, visto che la Lega più che il centro-destra ha una certa maggioranza in Italia, penso che la maggioranza degli italiani sarà d'accordo. Poi è chiaro che ci sono sempre quelli che hanno un po' idee diverse, quindi la vedranno in un altro modo. Però anche l'ultimo governo col ministro Miniti, che era di sinistra, insomma, aveva già iniziato una svolta rispetto a quello che erano le gestioni precedenti. Questo tipo di comportamento, secondo lei, bloccherà anche le partenze? O magari le ridurrà? Beh, sicuramente se sanno che partendo non andranno da nessuna parte, insomma, ci sarà sicuramente un blocco o una riduzione per il momento. Poi mi viene a vedere, perché non è solo la Libia, ci sono anche altri posti da dove partono, quindi è tutto in divenire. Cosa ne pensa dei porti chiuse ai migranti? Non so se hai sentito la notizia. Non ancora, no, ho qualcos'altro da fare. Non hanno lasciato entrare una barca, una nave piena di appunto immigrati? A Malta? In Italia. Ah, in Italia. Ha detto no, in Italia non approdate. No, non è giusto. Non è giusto. È giusto aiutarli al loro paese, questo senz'altro. Però quando si ritrovano in acque nostre, è giusto che li accogliamo. Con, certo, tutti i criteri giusti. Attento, per carità, non lasciarli andare in giro, controllarli e vedere se sono veramente necessitari di assistenza oppure se scappano perché, per evitare magari il carcere giù. Porti chiusi in Italia per gli migranti. Ma dipende, guarda. Secondo me, io non sono razzista. Se si abituano alle nostre condizioni, va tutto bene. Perché se andiamo noi da loro, è uguale. Però chi viene qui, non lavora, spaccia, e quelle robe lì, va bene, credo. Io non so come la penserebbero loro. No? Ma quindi, la domanda che ti faccio io, è stata una decisione giusta, quella di chiudere i porti e non lasciare attraccare la nave? Per me sì. Per me sì. Non per essere razzista, eh. Chi si integra, perché c'è tanta gente che ha una vita, che è qui, che lavora, è giustissimo perché siamo tutti uguali. Ma io più che chiudere le porte a tutti, chiuderei a quelli che sono qui a fa niente. Come ti ho detto prima, spacciare, quelle cose lì. Dopo ben venga, chi ha voglia di lavorare, chi ha voglia, perché siamo tutti umani. Però ovviamente quando arrivano e tu chiedi, hai voglia di lavorare, ovviamente, cosa pensi che potrebbe essere la risposta? No, sono venuto per delinquere. No, quello no, sicuramente. Però, diciamo così, che hanno più opportunità loro, che sono di fuori, che noi. Quindi non è che non stanno male. Loro questi qua hanno cominciato, secondo me, a capire che in Italia si dava la pacca sulle spalle e hanno detto andiamo tutti in Italia perché si fa il cazzo che si vuole qui. No? Adesso si ritrovano tanti, veramente, che sono qui perché volevano farsi una vita, non hanno neanche il biglietto di tornare a casa, poveretti. La colpa non è neanche loro. Bisognerebbe prenderselo col governo. Lui lo sa perché li ha voluti qua, perché ci guadagnava. Dici che con questo governo cambia qualcosa? A me no. No. Il caso dei porti chiusi ai migranti? Hanno ragione. A chiudere? No, a chiudere. Deve venire qua solo se c'è posto di lavoro, altrimenti non va bene. Quindi i porti vanno chiusi? No, chiusi. La gente può arrivare, si ha i requisiti per arrivare. E come si fa quando partono questi con le barche? Non abbiamo lavoro noi, quindi come dice Salvini, ne aiutiamo cosa loro. Ah, ok. Sì, sì, no, non ci mancherebbe, non si butta nessuno a mare. Ne aiutiamo a casa loro. Quindi la soluzione cos'è? Prendere la nave e spingerla al loro porto? Andare a vedere perché partono, se si può fare qualcosa che rimangano là, a casa loro. Non so, non so, ci sarà un po' di agricoltura, capito? Insegnarli a lavorare là a casa loro. Ha sentito qua, hanno chiuso i porti chiuse i migranti? Eh, vabbè. Eh, fatto bene? Certo. Fino a un certo punto i primi e nicchiettui c'è. Quindi ci voleva qualcuno, secondo lei, che dicesse stop. Ma gli italiani, secondo lei, sono per l'accoglienza o sono per spingere queste persone? Ah, io dico solo una cosa, vai su qua a prendere un appuntamento, bisogna aspettare un anno. Loro arrivano, tutti fanno le visite, tutti, tutto a posto. Invece noi aspettiamo un anno per avere un appuntamento. A fare... C'è un po' una disparità di trattamento. Eh, per me sì. Quindi già questa cosa a lei non piace? No. E non penso solo a lei? No, perché... Io sono del 40. Verso quegli anni lì, adesso c'è la crisi, allora non c'era la crisi, tutti là per i prati a mangiare, fare l'erba magra. Adesso arrivano su qua, tutti vestiti bene, telefonini, uno l'oltre dall'altro, non so. Quindi secondo lei, mi sembra di capire che secondo lei non c'è proprio questa grande emergenza. Bisogna mettere un po' di ripiego. Fino a un certo punto un certo numero può arrivare, l'altro, l'altro per me no. Ok. È così. Dopo, dopo forse, non so, io ho una certa età, è meglio che stiano giù un po' dall'altra parte un po'. Mi sembra giusto, perché stanno rovinando l'Italia, eh? Ecco. E di conseguenza, ognuno ha casa sua. Magari ci si... Le... Le... Aiutiamola? Basta. Non c'è da farli venire qui e che già l'Italia non va tanto bene, eh? Diciamolo. Ci mancano anche loro. Non abbiamo lavoro noi. E oltretutto arrivano loro a rovinare totalmente tutto quello che abbiamo qui noi, perché noi abbiamo un'Italia bellissima che ce la stanno rovinando. Però loro partono e poi arrivano qui. Ed è sbagliato. Non vanno aiutare. Io non lo so, non lo so, però chi li fa partire, perché bisogna sapere anche tante cose, perché è impossibile che arrivino sapendo che non le vogliamo. Ecco. Sono molto arrabbiata, eh. E adesso che, con questa chiusura di porte, secondo lei, arriveranno di meno oppure continueranno a partire senza problemi? Ma io penso che abbiano poi questo buon senso di non partire. Ecco. Perché c'è qualcosa sotto che non riesco a capire. Lo dirò sempre. Ma secondo lei, l'Europa, poi alla fine che dice che vuole aiutare l'Italia e non lasciarla sola. Aiuta l'Italia, l'Europa? Ho dei dubbi. Ho dei dubbi. Perché qui, se andiamo avanti così, non andiamo mica bene. Siamo proprio messi un po' male. Ecco. Secondo lei, gli italiani, sono d'accordo con Salvini per questa decisione? Penso più del 50%. Più del 50%. Sì, 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 sì. Sì, sì. Speriamo, dai. Speriamo. La soluzione per lei è quindi quella di aiutarli in patria? Sì, sì, sì. Come ha sempre detto, perché non è sbagliato l'idea. Perché non hanno, a parte il fatto che in Tunisia, tanto per dire, hanno anche loro le loro risorse vorrendo, volendo, volendo darsi da fare, diciamo. Ma non riesco a capire come mai il loro governo non le aiuta perché, per esempio, la Tunisia è piena di turisti perché c'è tanto turismo là. Quella gente lì che fine ha fatto? Ma porti chiusi non mi pare proprio il caso. Magari cercare di regolarizzare un po' le cose ma porti chiusi mi sembra un po' troppo. Qualcuno dice che se non si fa così qui rischiamo un'invasione. Sembra un'affermazione esagerata. Qualcuno lo dice. Sì, in effetti ci sono tanti ma non direi un'invasione dai vanno un po' anche da altre parti. Ci dicono che non dobbiamo essere lasciati soli l'Europa Beh, quello magari se l'Europa ci aiutasse un po' di più non solo a parole non solo a parole magari però vabbè Effettivamente c'è la volontà secondo lei in Europa di aiutare l'Italia? Poca 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 volontà di farlo come dico a parole Macron lui sembra però e al Brenner a 20 miglia insomma non dimostra quello che vuol dire appunto ecco comunque vabbè dai Il fatto di chiudere i porti secondo lei partiranno di meno? Ma questo non credo non credo che partano di meno non credo anche perché chi parte lì non lo sa neanche che sono chiusi i porti secondo me dopo vedremo come se volerà vedremo certo che le 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 della Germania che prendono questi qua dovrebbero portarli in Germania insomma perché che devono portarli qua insomma io capisco che non bisogna lasciarli annegare ed è giustissimo però se la nave è spagnola li portino in Spagna se è tedesca li portano in Germania cacchio cosa ne pensa decisione giusta sbagliata decisione giusta perché ce ne sono troppo tanti troppo io abito in un paese si chiama Botta di Sedrina dove c'è la casa dei ritiri era ex casa dei ritiri spirituali abbiamo su più di 200 migranti ok ne fanno di tutti i colori però non si sa perché dentro là nessuno parla nessuno però poi le cose si vengono a sapere in paese ho una figlia di 15 anni che ormai ha divieto di andare avanti indietro per il paese perché questi continuano a girare liberamente non è bello non è una bella situazione per noi la viviamo proprio direttamente questi sono in giro dalla mattina alla sera a far niente con i cellulari all'ultima moda più belli dei nostri si può dire ma non sono i veri neri quelli che hanno bisogno dei nostri aiuti quelli quelli da aiutare sono là al loro paese sono là che muoiono di fame questi arrivano tutti belli palestrati io penso che ci sia un giro di interessi molto molto grande e sono contenta che Salvini secondo te cambierà qualcosa con questo governo? spero spero di sì io ci conto comunque tu anche tu fermamente d'accordo con la legisla su Salvini che chiude i porti i migranti cosa dice? per me chiudere i porti è una cosa buona perché sono troppi che vengono qua finché c'è un limite si sta bene ma poi abbiamo anche i nostri giovani i nostri anziani che non sanno dove metterli e così se vengono anche poi gli immigrati ce ne sono già abbastanza per me Salvini è stato votato per questo ma al 90% per questo specifico scopo veramente quindi gli italiani secondo me almeno quelli che l'hanno votato sono sono dalla parte di Salvini io non l'ho votato ma sono dalla parte di Salvini ok vediamo quello che ci guardiamo intorno non abbiamo lavoro futuro per i nostri ragazzi dov'è se lo vede lei ma perché secondo lei vengono a rubare il posto di lavoro i nostri ragazzi vengono qua a mangiare gratis però non lavorano neanche e mangiano gratis a spese dei cittadini vengono qua non hanno lavoro non hanno casa in madaneggia a monote e questo dispiace è una vera tristezza dovremmo aiutarli come dice il governo tiranni via una quadra e aiutare quella povera gente lì perché sono persone umane anche loro come noi non hanno aiutato questa gente ma a casa loro nel loro territorio i paesi industrializzati sono in dovere di aiutare questa gente questa povera gente fra virgolette però lasciandoli a casa loro qua non ci stiamo neanche noi le case e così dove sono poi cosa portano di buono mi dispiace dirlo perché è gente umana anche loro malattia poi alla lunga prostituzione spazio tutte quelle cose qua è la vera c'è una signora prima che ha detto che è sua figlia ha paura di farlo uscire di casa in un paese dove ce ne sono tanti questa ha ragione noi abitiamo in un paesino a Pedrengo abitiamo però anche noi ne abbiamo lì però Albano Sant'Alessandro tutta quella zona lì il 20% sono stracomunitari qualcuno ha il lavoro qualcuno no poi ne vengono con noi tirano con la famiglia gli amici degli amici e tutta la catena di Sant'Antonio cosa che diceva signora? no qui dico vengono qui non hanno casa non hanno lavoro ma anche pure andano fuori abbiamo paura addirittura non senti il telegiornale no? sì ma non mi sembra di essere tentati vabbè fanno angherie loro come li fanno gli italiani non le distribuiamo in tutte le nazioni perché non vengono distribuite è solo l'Italia che si deve collare queste cose no dice che gli altri stati non li vogliono ma continuano a dire non li non possiamo lasciare quella nave di ieri Marta non li ha accettati e hanno andati ancora in Italia vero? ma la Spagna in Francia dove sono? i francesi vengono a la Merkel te li mandiamo tutti su? ah sì ma andiamoli agli italiani la Merkel quanti ne sono in Germania ma dicono poi anche gli italiani erano degli emigranti sì andavano se avevano un permesso di soggiorno una casa sul tetto e un lavoro scuro se no non ci andavano all'estero Svizzera Germania vale vale è la verità come sei stato accolto? sto bene benissimo come è il rapporto con gli italiani? bene sono cittadinanza italiana benissimo sono d'accordo con tutto niente problemi lavori? lavori sempre bravissimo ma è stato anche un problema ottimo sì cosa ne pensi del caso dei porti chiusi emigranti? Salvini è sempre un casino speriamo che lui adesso arriva al posto e dove anche lui pensa bene che tutti siamo al fine siamo uguali sì è vero quello che fa i problemi dove guardarlo e dove stare attento ma col tutto ottimo non va bene bisogna accogliere sì perché è vero quello che entrano sempre perché non c'è una garanzia che dicono come si dice quelli che arrivano sempre non c'è una sicurezza che dicono chi sono dove vieni perché perché vengono da non lo so da le serie non lo so scappano da prigioni non lo so tu come sei arrivato ai tuoi tempi io sono arrivato con il vesto quindi con aereo con aereo tranquillo ma vi già al posto di lavoro sì 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 ma io ho stato qua due mesi senza lavoro dal 2001 e fino ad adesso sta lavorando tranquillo con i bambini quindi la tua nuova casa siamo qua per lavoro non siamo qua per casino ha fatto bene a chiudere le porti hai fatto bene a meno sì sì d'accordo con Salvini grazie grazie non bisogna accogliere i migranti no ma anche io sono una di emigranti diciamo sono una bulgara bulgara sta quasi 14 anni come mi sto lavorando qua in Italia come sei arrivata in Italia avevi già un posto di lavoro con qualche amicizia sì con l'amica una mia amica è così come mai hai pensato di venire in Italia e come mai anche da noi un po' i nostri politici diciamo lo sai come è un po' difficile non si trova il lavoro purtroppo la vita è pesante per tutti noi e pensavi che in Italia fosse meglio un pochino più meglio diciamo non è come da noi e adesso cosa pensi dopo tanti anni che sei qua che in effetti è meglio qui o alla fine è più ma anche qua ogni tanto mi accendo la televisione e guarda le notizie e diciamo ci sono tante cose che non mi piacciono anche me anche voi anche altre persone e quelle bolette da quanto anni come sta qua questi sono quasi 14 anni diciamo io vedo come diciamo le bolette quando arrivano non si non si possono pagare e purtroppo è così il tuo futuro sarà comunque l'estate qui in Italia o hai intenzione comunque di tornare magari un domani al tuo paese no mi riposi un po' caci là i miei genitori là e mio padre è già morto diciamo ma è rimasta mamma devo stare un poco con lei e purtroppo è difficile la vita anche per noi dai cosa ne pensi è dura veramente nel senso che è un bel problema per l'Italia però porti chiusi insomma non so cosa dire veramente secondo te è una decisione un po' drastica probabilmente un po' drastica sì poveracci hai una soluzione alternativa? no io sicuramente no ci sarà qualcuno no non saprei veramente cosa cosa dire dispiace ma questo nuovo governo secondo te riuscirà a sistemare anche questo problema dell'immigrazione è un problema irrisolvibile secondo me è un problema irrisolvibile veramente sono sono in tantissimi non ci sono soluzioni per noi i nostri figli non trovano lavoro quindi per loro sicuramente sarà più più difficile ma dei ragazzi che ci sono qui secondo te ci diceva prima una signora che è una figlia che ha paura di mandarla in giro da sola adesso perché con la presenza di questi immigrati siamo a livelli esagerati oppure davvero bisogna temere anche chiamiamola dell'incrumità delle nostre persone comunque siamo grati ma sta anche i nostri figli inserirli nel modo giusto no cioè comportarsi anche loro a modo e si ha un po' questa barriera davanti a queste persone siamo tutti fratelli e l'Europa ha voglia di aiutarci da questo punto di vista? caspita o secondo te tante belle parole ma sotto sotto? non si risolve nulla nemmeno lì non lo so sinceramente veramente cioè non so proprio cosa dire mi dispiace però mi dispiace per queste persone mi dispiace ma dovrebbero sicuramente porre mettere dei dei limiti dovrebbero mettere dei limiti dovrebbero comunque perché così non si può andare avanti hanno diritto anche loro di vivere di sicuramente di essere aiutati però è chiaro che adesso la situazione sta diventando insostenibile lei percepisce che in Italia ci sia questo affollamento ce ne sono tanti noi abbiamo il lavoro per noi è giusto aiutare anche loro però è chiaro che non è cioè le cose quando sono troppe sono troppe quindi è chiaro lei condivide allora la scelta di chiudere i porti e non lasciarli a prodare ma è un problema che andrebbe affrontato tutti insieme tutte le nazioni ma non dovrebbero lasciare questa patata bollente solo all'Italia perché da quanto mi risulta lui sta buttando addosso tutto l'Italia ma ma non fa niente anche per aiutarla l'Italia subiamo subiamo soltanto critiche quelle sì critiche tante ma ma provare a farglieli mandare a loro questa gente infatti ci sono tante dichiarazioni non dobbiamo lasciare solo l'Italia eh sono sempre le solite sono di facciata secondo lei sono solo parole effettivamente anche il resto d'Europa no il resto dell'Europa mi sembra a Bruxelles non fanno proprio niente non fanno niente per cercare di porre limiti a queste cose siamo capaci solo di prendere le pacche sulle spalle quando andiamo lassù e basta ma poi siamo abbandonati a se stessi ho saputo di una nave di 600 qualcosa migranti che praticamente Malta non li vuole questa questa Malta non li vuole l'Aquarius ecco se non mi viene il nome noi adesso Salvini ha detto che sicuramente siamo stanchi di questa situazione non si può sempre sempre noi sempre noi quindi cosa facciamo rimbalziamo no rimbalziamo è un problema come ho detto che tutte le nazioni dovrebbero riunirsi grandi politici ha una soluzione c'è la soluzione c'è la soluzione la soluzione potrebbe esserci dovrebbero intervenire tutte le nazioni sedersi e discuterne poi dopo di più non so cosa dire perché la cosa non è non è neanche semplice da gestire o anche da risolvere porta chiuso ai migranti non ha lasciato sbarcare 629 a bordo della nave Aquarius mi sembra un po' giusto perché sono non è giusto accoglierli no è giusto ma sono un po' troppi adesso secondo il mio punto di vista non ho incontrato neanche uno stamattina non ho incontrato neanche uno ce ne sono ce ne sono sì sì cosa ne pensa favorevole o contraria favorevole favorevole in quanto mi sembra che la situazione sia un po' degenerata negli ultimi anni e secondo me è giusto tutelare anche noi italiani le persone lì a bordo quindi no è giusto andranno in altri porti dove sono più magari seguiti o comunque noi abbiamo dato per tanti anni questo tipo di di aiuto e questo tipo di intervento e secondo me essendo nell'Europa dovrebbe intervenire anche qualche altra nazione non solo noi italiani che geograficamente siamo svantaggiati da questo punto di vista ma non è giusto che ci subiamo tutti tutte le spese e tutte le complicazioni di questa di questa povera gente sicuramente che viene ma che non ha il diritto poi di non dico infestare ma comunque complicare la vita alla popolazione che comunque ne ha di problemi io vedo mia mamma che è anziana ha paura a stare in casa problemi con le spese e non hanno aiuto da nessuna parte i leader europei spendono parole non dobbiamo lasciare sola l'Italia tante belle parole ma nei fatti non si fa niente forse Salvini in questo caso ha fatto una cosa ha fatto una cosa concreta che può essere discutibile o meno ma quantomeno una cosa concreta l'ha fatta adesso vediamo come si potrà gestire questa decisione ma cosa porterà secondo lei questa decisione questo primo passo della chiusura di porti io spero limiterà il numero delle partenze anche dalle coste no non so se lo limiterà ma io spero che l'Europa si sveglie che ci venga incontro in questo che è un problema tipicamente italiano i porti chiusi ai migranti cosa ne pensi? hai sentito la notizia dello sbarco negato? no secondo me è giusto limitare perché anche far venire tanta gente non avere da offrirgli un lavoro un po' di dignità di vita eccetera è sbagliato ma far venire in che senso siamo noi che gli chiediamo di venire? no noi non chiediamo niente a nessuno non ci arrivano secondo te c'è un business qualcuno che ce li manda? voglia tantissimo business è quello purtroppo la piaga anche qua in Italia delle cooperative e si riuscirà a bloccare questa cosa? speriamo con questo governo tu ci credi? se abbiamo votato c'è un motivo maggioranza anche per quello speriamo speriamo davvero ma nell'interesse non solo degli italiani cioè nell'interesse anche di chi viene qua ospite reazione da parte dell'Europa a questa decisione di chiudere i porti l'Europa ci aiuteranno però siamo noi in prima linea è quella la nostra sfortuna che il porto è l'Italia tutti i clandestini arrivano qua poi l'Europa non li vuole che sia o meno d'accordo però è sempre un problema degli italiani eppure continuano a dire dobbiamo aiutare l'Italia dobbiamo aiutare l'Italia sì però parole facciano i fatti allora siamo contenti anche noi secondo te è solo facciata? la politica è così andare a sapere cosa c'è dietro però se dovessero fare qualcosa di concreto ma ripeto non per essere razzisti nessuno è razzista però non va bene neanche questi questi sbarchi incontrollati non va bene chiudere porte può risolvere il problema? può limitare può aiutare quello sì quello sì quindi secondo te saranno limitate anche le partenze adesso dalle loro coste? aiutiamoli dove c'è bisogno a casa loro perché li dobbiamo far venire qua senza un futuro non dico di non aiutarli aiutiamoli dove serve da Gazzanighe è tutto per il Sassano allo sagno della settimana grazie a voi che avete risposto grazie a Vladimir Lazzarini per il montaggio e le riprese della nostra trasmissione settimana prossima in un altro paese per le nostre inchieste per strada grazie a tutti voi a settimana prossima grazie a tutti